Allora, mentre le agenzie ci dicono che è proprio da pochissimo ripreso il tavolo di confronto, do il buongiorno alla senatrice Teresa Bellanova di Italia Viva. Buongiorno, senatrice. Buongiorno, buongiorno a voi. A proposito, le devo dire che a proposito dei dati che riguardano la perdita di posti di lavoro e, ricordiamolo, è un dato che riguarda soprattutto noi donne, ho pensato anche a lei, è vero che rimane senatrice, ma insomma è uno di quei casi in cui la competenza c'era e però la poltrona l'ha lasciata. Senta, senatrice, a che punto siamo? Mi sembra abbastanza in salita questa trattativa, questo confronto. Sì, è una trattativa difficile ma è da fare e credo che questi giorni, queste ore, stanno chiarendo a tutti quelli che si sono messi a giudicare la crisi, la crisi incomprensibile, la crisi che non si capiva. Io credo che adesso si capisce molto bene da dove origine la crisi, da una difficoltà di proposta, di proposta condivisa all'interno della maggioranza e lo sforzo che si sta facendo è proprio questo e io spero che ognuno lo faccia davvero con grande disponibilità e contenzione unitaria. Devo dirle che mi ha molto allarmata quello che ho sentito nella parte precedente della trasmissione. Se il professor Revelli sente di poter dire che Matteo Renzi è un pirata psicopatico con gravi problemi, io la domanda che mi faccio non è che cosa farà Matteo Renzi in risposta al professor Revelli, ma mi chiedo a quale livello di abbrutimento è arrivato il nostro paese se un intellettuale sente di poter utilizzare questo linguaggio in un momento in cui abbiamo un paese che ha attraversato da tensioni e da difficoltà enormi. E tra queste tensioni e difficoltà metto proprio quei dati sull'occupazione che dicono che chi ha l'onere di svolgere una funzione istituzionale oggi non può continuare a perdere tempo. Il Partito Democratico può anche fare una cessione di sovranità totale, ritenere di non avere nessuno adeguato al suo interno e che l'unica salvezza per questa alleanza, per quel partito insieme al Movimento 5 Stelle è Giuseppe Conte. Ok, ma sul merito bisogna confrontarsi, sul merito bisogna dire che cosa si vuole fare. Tra l'altro aggiungo che da un'agenzia si apprende che oggi al tavolo si affronta subito il tema della giustizia, quindi immagino che sia un'altra giornatina calda, facendo venire in aggiunta un esperto per gruppo oltre ai partecipanti coinvolti ieri. Senatrice, abbiamo letto sui giornali, ieri abbiamo ascoltato anche la proposta della bicamerale che è arrivata da Italia Viva, ma oggi tutti i giornali riportano la sostanza che Italia Viva ha rilanciato e quindi si complica la situazione perché Italia Viva rilancia su alcuni punti. Posso chiederle se comunque un punto imprescindibile rimane Conte? Perché prima Morassut ci ha detto che Conte per il PD è punto di partenza e di arrivo. Beati loro che hanno solo questo problema e che lo hanno risolto, individuando il soggetto che risolve tutti e tutto. Per noi il problema è un altro. La giustizia è un tema solo di Italia Viva. La giustizia in questo Paese può essere che bisogna non riconoscere che è necessario avere una giustizia giusta e noi non siamo a questo. Il tema del nessuno innocente è arrestato in Italia. È un tema che si deve lasciare solo alle battaglie di Italia Viva o qualcun altro di questa maggioranza vuole farsene carico. Il tema del tempo dei processi e anche della giustizia civile. Per noi avete votato la prescrizione, senatrice. Avete votato, dopo aver minacciato di far cadere Bonafede, avete votato la prescrizione. Abbiamo posto il problema di intervenire perché quel modello per noi non va bene. Lo abbiamo posto e lo stiamo ponendo con forza. E quando si dice qual è il problema per Italia Viva, i problemi sono questi. Sono la giustizia. I problemi sono la crisi sanitaria. Guardi, noi per quelli che ritengono che tutto si risolve con un nome, noi poniamo una questione. Purtroppo continua ad esserci una forte diffusione del Covid. Noi non abbiamo un piano vaccinale e non abbiamo i vaccinatori. Però abbiamo classi dirigenti che si concentrano per difendere il ruolo del commissario così com'è. Noi vorremmo capire, molto modestamente, come si deve dare corso e in quali tempi, e noi riteniamo rapidamente, a un piano vaccinario e a come bisogna individuare i vaccinatori, individuareli rapidamente. Perché questo è quello che angoscia le famiglie italiane. Noi ci poniamo il problema della crisi economica. Qualcuno pensa che si sta perdendo tempo perché discutere di programmi è una cosa di Prima Repubblica, di Seconda Repubblica, è una cosa di Italia Viva. Io dico, ma che cos'altro deve accadere? Se i dati ci dicono che abbiamo perso 444 mila posti di lavoro, che nel solo mese di dicembre, e tenga conto con i licenziamenti bloccati per legge, abbiamo perso 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila donne. Quando discutiamo di scuola, quando discutiamo di servizi nel territorio, quando discutiamo di un nuovo welfare, parliamo di collocazione di questo o quell'altro dirigente politico o parliamo di temi che riguardano la vita degli uomini e delle donne? del nostro paese, Roberto? Io ho una semplicissima domanda per la senatrice. Senta, io ho questa sensazione che tanto nel Partito Democratico quanto nel Movimento 5 Stelle, quelli che la pensano come voi sono più numerosi di quelli che lo dicono in pubblico, anche perché in pubblico non lo dice praticamente nessuno. Sbaglio? Io credo di sì, però la lealtà non verso le persone, ma verso il paese consiste anche in questo, nel dire in pubblico quello che si dice in privato, perché altrimenti siamo oltre l'ipocrisia e il Partito Democratico deve smetterla di comportarsi come il marito tradito per il quale adesso bisogna uccidere Italia Viva perché altrimenti non c'è nessun'altra ragion d'essere. Abbiamo fatto un'operazione politica, noi ci siamo distaccati, abbiamo fatto dei gruppi parlamentari che volevano adesso frantumare con questo mercato indecoroso che è stato portato nel cuore delle istituzioni, questo non è riuscito. Adesso incominciamo a ragionare e magari ripartiamo da quello che era stato detto quando anche il Partito Democratico, per voce di Zingaretti, ha detto che bisogna cambiare passo, che il governo deve trovare un'altra andatura, che bisogna accelerare, che ci sono problemi nel Paese da affrontare. Allora, adesso è il momento, è giunta l'ora, o si scrive adesso un programma che affronta i temi veri che ha di fronte l'Italia o altrimenti si gioca sulla pelle degli uomini e delle donne e sulla pelle di quegli uomini e donne che stanno perdendo il lavoro o stanno per perderlo. Lei ha una preferenza tra ricostituire con un governo, con una diversa composizione e se occorre anche con un primo ministro diverso, ma ricostituire la maggioranza esistente o andare a una formula capace di allargare l'area della maggioranza a chi ci sta, per esempio, nell'area di centrodestra a cominciare da Forza Italia. Tra le due, quale preferisce? Guardi, io preferisco ogni sforzo per un governo politico, ma non a tutti i costi. Se si allarga, se si parte da quella maggioranza e si allarga, ben venga, ovviamente dentro un programma che deve rispondere ai temi, insisto, che saranno noiosi, ma riguardano la vita degli uomini e delle donne. In alternativa è chiaro che c'è un governo istituzionale, perché anche questa storia del minaccia, delle elezioni, io non ritengo mai una minaccia alle elezioni, perché sono un esercizio democratico, ma per come vengono utilizzate adesso da chi dice o state alle nostre condizioni, e cioè al quieto vivere e al nulla fare, tranne che gestire l'emergenza, o altrimenti c'è il ricorso al voto, è una minaccia che vuole dire ai senatori e ai deputati passate da quest'altra parte perché altrimenti c'è il rischio del voto. Il voto non deve essere vissuto come un rischio, il voto deve essere vissuto come un esercizio democratico nel momento in cui un'operazione politica fallisce. Noi vogliamo provare a ricostruire le condizioni per dare un governo rapidamente a questo Paese. Senta, senatrice, voi dite quindi un governo politico con i migliori, mettiamola così. Berlusconi dice un governo di alto profilo, si parla quindi di merito, soprattutto di competenze. Quali sono i dossier, mettiamola così, che voi ritenete essere stati gestiti male e che quindi evidentemente hanno bisogno non solo di un cambio di programma ma anche di un cambio di guida perché poi i programmi vengono fatti in un modo o in un altro ma anche gestiti da qualcuno. Quali sono i dossier che voi dite su questo, questo e questo bisogna che ci sia un cambio di metodo, di programma e inevitabilmente di persona perché è inutile girarci intorno. E' lì di questo anche stiamo parlando. Io non credo che una maggioranza, se rimane in questo perimetro, rimane con gli stessi identici ministri. Un tema, l'abbiamo detto, ed è la giustizia. Ma un altro tema fondamentale è il recovery. Ma vogliamo chiarire alle persone... Quindi posso dire gualtieri e buona fede? Ma il problema non è i gualtieri. Sul recovery hanno lavorato in tanti, tranne che avere un coinvolgimento di Italia Viva. Quando noi abbiamo detto il 7 di dicembre questa cosa è impotabile perché non affronta nessun tema e ci siamo visti non una maggioranza che ha preso atto e ha detto parliamone. Abbiamo visto un presidente del Consiglio che ha fatto convocare il Preconsiglio per portare in legge di bilancio un emendamento che espropriava le funzioni dello Stato e assegnava a 300 consulenti, vogliamo dire amici, vogliamo dire conoscenti, chiamiamoli come vogliamo. Sicuramente non erano il meglio della pubblica amministrazione, non erano le regioni, non erano i ministeri, non erano i comuni. Allora, lì noi abbiamo posto un problema. E' stato migliorato? Sì, è stato migliorato. E' l'ottimale? No, non è ottimale perché ancora non ci sono idee chiare, non è l'ottimale perché l'Europa ce lo sta dicendo in tutti i modi, che così non si va granché lontano. Allora bisogna intervenire e chiarire adesso, non quando dobbiamo restituire le risorse all'Europa o addirittura non devono proprio arrivare dall'Europa le risorse, adesso bisogna chiarirsi su che cosa deve essere il recovery. Il piano di queste risorse deve essere chiaro e bisogna chiarire anche come si devono gestire queste risorse, che non è fatto secondario. Sul lavoro noi pensiamo di poter continuare con i bonus e possiamo pensare di continuare con la cassa integrazione che non interviene però con un progetto serio di formazione, di ricollocazione, dove devi individuare quali sono i settori strategici. Se non capisci dove vuoi andare nel futuro, non puoi avere una formazione adeguata a farti trovare le competenze nel momento in cui devi ripartire. Allora, sono temi importanti, insisto, possono sembrare noiosi, ma se non discutiamo di questo, noi precipitiamo esattamente nell'immobilismo che negli ultimi mesi aveva dato a questo governo grandi difficoltà. Senta, senatrice, lei è persona schietta, sincera, dice sempre quello che pensa, ma proprio perché i temi sono così importanti, profondi, è difficile pensare che una matassa si possa sciogliere in 24 o in 48 ore. Secondo lei, oggi il Presidente della Camera, FICO, cosa andrà a riferire al Quirinale, secondo quello che stiamo vedendo in questi due giorni, compreso oggi, appena ripreso il confronto? Ma che so che ieri hanno fatto pezzi di discussione anche importanti. Io non sono al tavolo perché ci sono i capogruppo e spero che in queste ore si possa ulteriormente approfondire su temi che sono quelli che ci siamo già detti. Dopodiché, se c'è bisogno di avere qualche ora in più, credo che non è questo il problema, ma io non faccio a lei una domanda perché non è il mio compito fare domanda, ma a tutti quelli, insisto, che hanno detto che non si capiva la crisi, quindi avevano già le idee chiare su che cosa fare. Mi pare che la discussione al tavolo non è solo con Italia Viva, mi pare che la discussione al tavolo è anche tra quelli che dicono che vogliono fare le alleanze strategiche, che sono pronti ad andare il voto per avere una grande alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Allora, per favore, usciamo dalla propaganda, entriamo nel mondo reale e incominciamo a scrivere il programma come si deve. Va bene. Senta, lei è consapevole del fatto che anche in quanto donna finora il posto ce l'ha rimesso lei. Sì, lei mi dirà, l'ho lasciato volentieri, ero disposta a lasciarlo. No. Insomma, dispiace un po'. Non volentieri, l'ho lasciato perché ritenevo di non avere più la possibilità di esercitare le mie funzioni come prevede la Costituzione. Non era una scelta semplice perché dimettersi da ministro non è dimettersi da un attaccapanni. Mi sono dimessa da ministro sapendo che stavo facendo una scelta utile per il Paese. Questo è quello che mi ha animato. Così come adesso dico, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare intensamente perché le donne del mezzogiorno, le donne dei settori produttivi che stanno in crisi, quelli che stanno in azienda dove i licenziamenti sono bloccati, ma sanno già che nel momento in cui si sbloccano i licenziamenti non hanno più un posto di lavoro, non possono essere presi in giro da una classe politica che pensa di aprire il mercato nel cuore delle istituzioni. Senta, veloce, veloce, in chiusura, per una donna che esce può darsi che ce ne sia una che entra come Maria Elena Boschi? Anche di lei, leggiamo. Noi dobbiamo puntare a far entrare quante più donne possibili. Non è il momento in cui stiamo ai nomi, stiamo ai programmi, ovviamente i programmi poi andranno interpretati dalle persone più adatte, più adeguate. Perfetto, grazie Teresa Bellanova e buon lavoro naturalmente. Giornata anche oggi tutta da seguire. Approfitto per dirvi che naturalmente alle 17 riprendiamo con la maratona mentana imperdibile. Grazie Andrea Pancani, Coffee Break, grazie a Roberto Arditti. Noi ci vediamo domani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.